Musica Caro diario, un altro libido, e questa volta sulla guancia destra. Aveva bisogno di me, e io cosa avrei potuto fare se non stringerla, stringerla forte? Un semplice, banale abbraccio, un abbraccio che non conosce parola di fronte alle speranze in Francia della vigna, la mia migliore amica, di fronte a me, col pugni chiuse, i capelli spettinati, il trucco colato sulle guanci e tanta voglia di giustizia.